Il sangue di Cristo unisce i cristiani. È uno dei passaggi del videomessaggio del Papa inviato al movimento John 16, riunita a Phoenix negli Stati Uniti e da tempo impegnato in iniziative ecumeniche aperte ai cristiani di tutte le denominazioni. In occasione della giornata per l'unità cristiana dal titolo Padre, che siano in noi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato, Francesco Espagnolo ricorda che l'unità è suggellata dal battesimo e che la divisione è opera del padre della menzogna. Colui che perseguita oggi i cristiani che ci unge con il martirio afferma, sa che i cristiani sono discepoli di Cristo, non importano le differenze. Oggi si vive l'ecumenismo del sangue che deve spingere a pregare e a renderci ancora più fratelli. L'unità ricorda il Papa la fa lo Spirito Santo, i teologi aiutano come le buone volontà di chi è in cammino e con il cuore aperto allo Spirito Santo.